Non siamo ostelli, così la CGL Treviso liquida la proposta di Landini di ospitare i profughi nelle sedi del sindacato. Prefettura in difficoltà, caccia di nuovi posti per i migranti, oggi una trentina in protesta muta davanti alla sede della Questura. Urla e insulti al tricolore, la protesta shock dei venetisti disturba il funerale di Mattielli, i sindaci si levano la faccia, le auto della polizia insicure usurate con scarsa manutenzione da rottamare, la denuncia del sindacato UGL. Entro un mese il comune di Treviso adotterà il registro per il testamento biologico, Cassugana di fatto rivestirà il ruolo di notare. Raccontano di essere stati pestati da una banda di marocchini, ma è una bugia per nascondere il litigio, denunciati due giovani. Speciale Focus, questa sera in diretta da Pieve di Soligo, grandi ospiti per discutere il futuro dell'informazione. Crocio pericoloso a San Biagio, dopo il nostro servizio, oggi il sopralluogo dei tecnici, il sindaco, mettiamolo in sicurezza. Tutte le ultime notizie, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Treviso. Avete sentito dunque, non siamo ostelli. Così la CGL di Treviso liquida e si oppone alla proposta di Maurizio Landini della FIOMA, arrivata soltanto nelle scorse ore, di ospitare i profughi anche nelle sedi dei sindacati. Non è il compito del sindacato trasformare le proprie sedi in ostelli per richiedenti asilo. La CGL Treviso risponde picche alle disposizioni di FIOMA e Segreteria Nazionale per ospitare i profughi nelle sedi sindacali e in 448 liquida la proposta così. Landini ha fatto una battuta, credo. Tutto questo mentre la Prefettura cerca disperatamente nuovi posti per ospitare gli attesi ultimi 100 profughi, con una trentina di loro già giunti nella marca, per lo più afghani e pakistani, che senza un alloggio hanno organizzato per protesta un sit-in mutuo davanti alla questura. Al sindacato non interessa lucrare sui migranti, rincalza il segretario Trevigiano. Peraltro ci sono le risorse per farlo, economiche, quindi è anche un business, che non è un business che interessa senza altro il sindacato, che ha un altro compito. Per Nicola Talmici inoltre da fare un distinguo tra chi scappa dalla guerra e chi dalla povertà. Il problema è che dovremmo capire chi è profugo e chi invece è un migrante economico, subito in modo tale da dare l'assistenza giusta ai profughi, mentre nei confronti dei migranti economici bisogna capire che questi usano le tratte dei profughi perché non è possibile migrare regolarmente in Europa. Allora lì il problema è di affrontare questo, perché io mi domando, dopo un anno, un anno e mezzo, che una persona rimane qui nei nostri centri, gli diciamo che lui non è un profugo, chi lo rimanda a casa, in che modo? Quindi stiamo alimentando una bolla che sarà difficile da gestire. Cigella è treviso d'accordo con il gentilini pensiero, che oggi come sempre tuona contro i migranti accolti della marca, dei quali dice l'80% sono clandestini. Per Atalmi, infine, al sindacato ha compiti ben diversi rispetto a quelli dell'accoglienza. Le sedi del sindacato servono a tutelare e difendere i lavoratori pensionati e disoccupati e quindi non possono trasformarsi in alberghi, sarebbe anche sbagliato dal nostro punto di vista. Tra poco torneremo a questo tema con altre immagini. Intanto lo strascico di polemiche dopo le contestazioni degli indipendentisti veneti al funerale di Ermes Mattielli ieri pomeriggio d'Arsiero. Urla fuori luogo, ma alcuni sindaci davanti a questa contestazione si sono tolti il tricolore. Via il tricolore venduti! Qualcuno urla, ovviamente scoppiano polemiche anche... L'appello del parroco di Arsiero Roberto Xausa perché la politica rimanesse fuori dal funerale di Ermes Mattielli non è stato rispettato. Anzi, la contestazione dei venetisti è avvenuta proprio mentre il feretro di Ermes Mattielli abbandonava la chiesa arcipretale. Nel mirino i sindaci che seguivano il corteo. Abbiamo contestati, abbiamo detto di togliersi le fasce. All'inizio l'espressione che ho chiesto è stata di sbicottimento perché non credevano molto bene a quello che stavano sentendo. E cinque, cinque se la sono tolta, due no. Due sono rimasti imperterriti. Tra chi non si è tolto la fascia tricolore, Ulisse Borotto, sindaco di Nanto, il paese di Graziano Stacchio e Roberto Zancan. Dovevano sfilarmela, dovevano togliermela loro. Io non me l'avrei mai tolta. Siete alcuni sindaci che ti sono effettivamente tolti la fascia? Sì, e questo mi dispiace perché non hanno capito cosa vuol dire portare la fascia. Non era presente alla contestazione ma condanna all'aggressione ai colleghi il primo cittadino di Albetone, Gio Formaggio, che era stato assieme a Stacchio e Zancana tra i promotori della colletta per sostenere le spese legali per Hermes Mattielli. E non toltero le urla verso i colleghi sindaci, le urla verso chiunque non la pensa come te. Non sapevamo se Hermes Mattielli voleva il sindaco con la fascia o senza fascia. Una brutta pagina per i venetisti. Non hanno portato rispetto a Hermes Mattielli. Merito a questo, sceglie di non scendere in polemica il governatore Luca Zaia, ma così ricorda Hermes Mattielli. Guardi, ogni commento che potrei fare verrebbe strumentalizzato, verrebbe fiato a qualcuno. Dico semplicemente che va al cordoglio per quello che è accaduto ad Hermes Mattielli. Ricordiamolo che comunque è morto di crepa a cuore, come diciamo. È morto tre volte, come dico io, perché è morto il giorno del furto, è morto il giorno della condanna e è morto poi per questo attacco cardiaco. È stato oggetto di un furto, una persona disabile, perché magari molti non lo sanno che Hermes Mattielli era senza una gamba. E dopo sei furti, forse in preda alla disperazione, in preda anche alla paura, ha sparato. Il risultato è stato una condanna a più anni per lui e 125-124 mila euro di multa. Penso che questa è la dica lunga su che paese abbiamo. Vediamo ora queste immagini, le abbiamo parlato in apertura, cioè i profughi che manifestano silenziosamente questa scena muta davanti alla questura di Treviso. Ecco, li vedete infreddoliti, coperti da questi lenzuoli. Sono delle coperte ovviamente per il freddo di queste ore, in un Treviso immersa dalla nebbia. La loro protesta muta, lo dicevamo, davanti alla questura, chiaramente per una soluzione differente sul fronte dell'accoglienza. C'è l'emergenza crisi nel nostro paese, ma anche sul tema dei lavori socialmente utili c'è più di qualche nodo ancora irrisolto. Vediamo. La rivoluzione del Jobs Act nel mondo del lavoro ha portato qualche problema nella gestione dei lavori socialmente utili. Soprattutto con l'idea di accentrare a Roma anche la gestione del lavoro. Dal 24 di settembre non potevano più essere rinnovati i progetti di lavori socialmente utili, attingendo alle liste dei lavoratori in mobilità. E questo per mesi avrebbe comportato un vuoto normativo perché l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro deve ancora essere istituita e questa agenzia poi dovrà fare la nuova schema di convenzione da utilizzare per riprendere i progetti di lavori socialmente utili. Un voto che rischiava di cancellare un metodo di inserimento nelle comunità, tutt'altro che residuale, soprattutto in Veneto. Nel 2014 la Regione Veneto ha autorizzato 7.470 progetti di attività socialmente utili. Progetti per un piccolo grande esercito che rischiava di venire cancellato dai nuovi provvedimenti del governo. Attività che coinvolgono cooperativi sociali, ma anche istituzioni. E vengono utilizzati per esempio dai nostri comuni per la pulizia delle palestre, vengono utilizzati per l'apertura delle biblioteche, negli uffici ragioneria, i protocolli, per aiutare gli operai nei lavori di manutenzione e soprattutto molti vengono anche utilizzati dalle scuole. Importante quindi che si sia intervenuti subito con una legge che ha colmato il vuoto normativo. Siamo riusciti a sbloccare la situazione per cui fino a quando la nuova istituenda Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro non avrà approvato lo schema di convenzione nuovo che poi si dovrà utilizzare tra regioni, enti locali e scuole. Fino a quel momento intanto potrà continuare la vigenza della precedente normativa e quindi potranno essere portati a termine i progetti in corso, ma anche rinnovati e istituiti nuovi lavori socialmente utili. La squadra esterna di Rete Veneta al gran lavoro perché questa sera c'è una puntata speciale di Focus in diretta da Pieve di Soligo. In rete con noi oserei dire, dunque c'è Lucio Zanato. Lucio! Sì Ferdinando come hai detto giustamente tu, Soligo in rete, in rete con Rete Veneta. E non a caso c'è questo nome perché Rete Veneta e il direttore Luigi Bacialli sono gli ospiti di onore ma soprattutto sono quelli che apriranno questo meeting sull'informazione che vuol diventare un festival del quartiere del Piave come è Glauco Zuan che è il responsabile, il curatore di questo meeting. Grazie Glauto per essere qui e velocemente perché avete scelto proprio Rete Veneta per questo meeting sull'informazione? Ma questo meeting è dedicato al rapporto fra giornalismo ed economia per cui ci sembrava doveroso ospitare per il debutto Rete Veneta e nella fattispecie Focus che da anni segue la crisi economica dei Veneti cercando di far emergere come cercheremo di fare anche noi la voce degli imprenditori, degli amministratori e soprattutto dei cittadini in difficoltà. Hai qualche domanda da studio Ferdinando? No, per capire appunto anche a che ora ci dobbiamo vedere, ci seguiranno alle 21.05 con gli ospiti possiamo annunciarne anche qualcuno credo Lucio, no? Sì, allora abbiamo Jacopo Berti, poi abbiamo Roberto Marcato per quanto riguarda i politici poi avremo due sindaci per rappresentanti di comunità, chi sono Glauco? Ma dovrebbero arrivare, sono attesi il sindaco di Fara di Soligo Giuseppe Nardi e il sindaco di Follina Mario Colletto Poi ci sono anche due imprenditori perché questa è Linux Valley, è la valle dove praticamente l'imprenditoria prima dall'immigrazione e poi successivamente con, diciamo così, la rinascita è tornata qui e ha rimesso in moto tutto quindi chi imprenditori ci saranno? Ma sicuramente Nicoletta Milani che è una giovane imprenditrice del settore legno, dell'area d'oregno e per il resto collegatevi su Rete Veneta fra un'ora E soprattutto poi, ricordiamo, ci saranno i vostri sms e gli sms dei nostri telespettatori Con questo è tutto, se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio Grazie Lucio al tuo ospite, dunque appuntamento alle 21.05 con Focus L'incrocio pericoloso di San Biagio di Callalta ha colpito il nostro servizio di ieri tanto che questa mattina i tecnici erano già al lavoro per le modifiche in termini di sicurezza Abbiamo sentito il sindaco, vediamo Questo arriva È già diventato un caso il pericoloso dedalo di strisce sull'asfalto qui a San Biagio testimoniato ad arte da un alto rischio in diretta Abbiamo rischiato un frontale Abbiamo rischiato un frontale Tanto che il sindaco si è mobilitato dopo le diverse segnalazioni dei residenti e precisa È giusto che ci preoccupiamo insieme col comando dei vigili e i responsabili di Veneto Strade Lì abbiamo ricevuto le assicurazioni che l'intervento non è finito Competenza dunque di Veneto Strade che questa mattina dopo il servizio di rete veneta ha mandato i propri tecnici in sopralluogo per valutare le modifiche Il progetto definitivo, pare, non è nemmeno a disposizione del sindaco che però chiede sia tutelata la sicurezza di tutti e lancia un appello Si disegnino altre strisce ma pedonali per gli attraversamenti di quanti utilizzano le fermate dei bus Lì come ho detto prima abbiamo ricevuto le assicurazioni che gli interventi non sono terminati Adesso vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi e sicuramente daremo la maggior diffusione in modo tale perché prima di tutto viene la sicurezza Treviso, comune capofila nella marca entro un mese il testamento biologico Siamo sulle 300 firme raccolte dai cittadini i quali appunto chiedono che venga istituito questo registro Entro un mese anche Treviso raccoglierà i nomi di chi farà testamento biologico Tecnicamente si chiama DAT, dichiarazione anticipata di trattamento Il documento che certifica la volontà da parte di una persona gravemente malata e ancora in condizione di lucidità mentale in merito alle terapie che vuole o non vuole accettare nel caso in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità a poterlo fare Perché il medico comunque bisogna saperlo, non è vincolato Deve sempre agire secondo scienza e coscienza Anche se ultimamente le volontà del paziente vengono a seguito del consenso informato o vengono sempre più tenute in considerazione Cassugana di fatto rivestirà il ruolo di notaio facendo però risparmiare alle persone il costo di un vero notaio Quindi una volta iscritti ci sarà la richiesta di un'iscrizione nel registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento E questa richiesta verrà registrata Siamo stati pestati, aggrediti, rapinati da un gruppo di marocchini Questo racconto ai genitori e ai carabinieri di Castelfranco Poi però si è scoperta la verità Aggrediti, pestati e rapinati da una banda di marocchini proprio in centro a Castelfranco Veneto all'esterno di un bar Così hanno raccontato tanto da allarmare sia le famiglie che i carabinieri I militari nella notte di sabato si sono immediatamente messi sulle tracce della gang di stranieri Ma di questi aggressori non vera proprio traccia E così i sospetti sono ricaduti sui due amici stessi Un 23enne di Tez sul Brent e un 25enne di San Martino di Lupari Avete stato particolare a scalpore Era le lesioni di portata dal carico di uno Che aveva avuto una frattura alla mandibola particolarmente grave Che è stato immediatamente sottoposto all'intervento chirurgico all'interno dell'ospedale di Castelfranco Veneto La bugia ha retto poco I due operai dopo una notte di bagordi passate in vari locali tra Venezia e Padova e Treviso Probabilmente per una parola di troppo finiscono per darsele di santa ragione E il 23enne è la peggio Preoccupati per la reazione dei genitori Ecco l'idea Simulare una rapina Ciliegina sulla Fandonia Dare la colpa agli stranieri Nella mattinata di domenica Sentiti separatamente Abbiamo individuato la realtà dei fatti Una volta crollati hanno ammesso e per entrambi è scattata quindi una denuncia per simulazione di reato Oltre alle lesioni per il 25enne che ha sferrato il pugno alla mascella Ora altre notizie in breve dalla marca, vediamo Sono scappati con un bottino da sveriate migliaia di euro i tre rapinatori Contugli antiprodoni contro furti e rapine con i controlli intensificati anche nelle ore serali Il servizio antipredatorio è nei comuni di Cimadolmo, Ormelle, San Polo di Piave e Vazzola Da parte degli agenti del corpo di polizia locale Particolarmente attenzionate le zone residenziali e quelle con presenza di attività commerciali Il comando punta ad un'opera di prevenzione aumentando anche la vigilanza urbana nella lotta ai reati predatori Attiviso alla situazione autovetture delle volanti è ridicola Gomme usurate che non vengono sostituite, macchine con chilometraggio assurdi e con scarsa manutenzione Alfa Romeo che raggiungono quasi 300.000 km abbiamo paura di guidare questi mezzi Parole con cui l'UGL, il sindacato della Polizia di Stato, denuncia la situazione emergenziale del parco macchine in dotazione A proposito di forze dell'ordine, salutiamo dopo tre anni di servizio come comandante della compagnia di Montebelluna Il capitano Eleonora Spadati, adesso sarà a Roma lo Stato Maggiore al Difesa, all'Ufficio Pubblica Informazione Al suo posto in arrivo dalla compagnia di Tiere il capitano Sabatino Piscitelli In tre anni mi porto grandi soddisfazioni e anche alcune situazioni amare e anche se vogliamo turisti Che abbiamo dovuto affrontare e superare come ad esempio l'omicidio di Denise Morello e la scomparsa di Marianna Cendrona Con molti di loro tuttora abbiamo, ecco per esempio in questi due casi abbiamo ancora contatti con le famiglie Io personalmente mi sento tuttora con entrambe le famiglie, quindi è un legame che mi porterò dentro fino a Roma per non dimenticare Ricordatevi dunque anche che questa sera alle 21.05 c'è uno speciale focus con il nostro direttore Luigi Bacialli In diretta da Pieve di Soligo È tutto per questa edizione di TG Treviso, grazie per averci seguito, buona serata